Ciao a tutti criticone e criticone e benvenuti in questo nuovo video Innanzitutto vi chiedo come al solito come state, come sta procedendo il tutto, in generale la vostra vita Inoltre volevo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti, dato che ho raggiunto più di 100 iscritti E per me è un grande risultato Comunque, ho appena visto la nuova live che è uscita, quella di Chiara e Davide Vabbè, io in realtà ho visto il video perché quando è uscita appunto la live, la loro nuova live Basta Non mi ero nemmeno accorto, dico la verità Stavo facendo tutt'altro E niente Ho visto che è successo qualcosa di, potremmo dire anche grave Però metto già le mani davanti e vi dico che io non ci credo Un po' come ha detto anche Ciccio Allora Innanzitutto Partiamo col dire Vi racconto cosa è successo in breve per chi non lo sapesse Praticamente sono state inviate due email A Chiara D'Alessandro Una da parte di un certo Antonio Conte Che se non mi sbaglio l'avevano già citato in un'altra live Che le aveva già mandato un'email E in questa email diceva praticamente che sarebbe stato il loro peggiore incubo E poi un'email, un'altra Che gliel'ha mandata Almeno ad avviso di questo, un amico di questo Antonio Conte In cui praticamente ha Beh, ha mandato una foto del pene a Chiara Allora Incominciamo Dal dire come mai io non credo a A questa cosa Ho preparato pure una scaletta Così almeno non mi confondo Non mi dimentico delle cose Allora Mi sembra innanzitutto strano che All'inizio Quando incominciano la live Potete notare che La suocera Di Davide Cioè la mamma di Chiara La signora Luciana Chiede Che cosa sia successo Allora A meno che proprio quell'email Non sia stata mandata Tre secondi prima E loro subito Abbiano deciso Di fare una live E questo comunque Già di Ci dà un'idea della loro vita Però Mi sembra molto strano che Davanti a un gesto Che comunque sia anche grave Non ne abbiano parlato Prima Con la signora Luciana Cioè con la propria famiglia E La prima cosa che hanno fatto È stata quella di Aprire una live O comunque di Parlarne prima Al fandom Che Alla signora Luciana Che comunque vive con loro E Soprattutto se Queste email di minaccia È vera Dato che appunto Loro vivono con la signora Luciana Queste minacce Potrebbero anche In un certo senso Essere indirezzate Anche Alla mamma di Chiara E non solo A loro due E già questo Mi fa pensare in parte Come Non sia vera Questa storia E come Sia vero Che loro O comunque Sia vero Che loro Vivano Prettamente Per Youtube Poi Vabbè Mi ha fatto ridere Che abbia detto Sì Ma voi lo sapete Almeno Che è Antonio Conte Sì Lo sappiamo tutti Davide Forse sei tu Che non lo sai Però vabbè Poi La storia Che Se un bambino Lo apre un'email Perché potevano Vederlo anche Dei bambini Quella foto Io Sono un po' contrario Che dei bambini Proprio Utilizzino La linea internet Se non Sotto Sotto Sorveglianza Di un adulto Non intendo Minorenni Però Bambini piccoli E quindi Anche lì Non capisco Quale sia Il problema Anche perché Loro stessi Parlano di bambini E mi hanno messo I nipoti Che avevano Erano piccoli Cioè Anche i più piccoli Hanno messo Senza problemi Cosa che io Francamente Non approvo Minimamente Però Vabbè Sono Decisione Alla fine Dei conti Proprio Proprio Però Ho apprezzato Una cosa Che ho notato Se andate Al minuto 8 e 30 Circa A un certo punto Davide Praticamente Interrompe Chiara E gli dice Le dice E le dice Appunto Basta Fammi parlare Fammi finire E dopo Vabbè Dopo si è scusato Però Mi è piaciuto Questo suo gesto Perché Per una volta Non si è fatto Interrompere Da Chiara Da Chiara Perché Comunque Fermo restando Che posso Provare o meno Quello Che dica Mi dà fastidio Questa cosa Che ogni volta Che Davide Cerchi Di esprimere Un Un proprio parere Un proprio discorso Che deve essere Sempre E dico Sempre Interrotto Oppure Corretto Da Chiara Nel senso È un uomo Adulto E vaccinato Può esprimere Una propria opinione Senza che Ogni volta Deba essere Indirizzato Interrotto E infatti Questa volta Ve l'ha detto Vabbè Andate a vedere Vi ho detto 8 8 e 30 E vedrete Che Lui La La interrompe Ma proprio Pesantemente Poi Mi ha fatto ridere Un'altra cosa Che ho trovato Molto Diciamo Incoerente È stato Che lui Abbia Descritto Questo paese Come il paese Dei pecoroni E che Abbia inoltre Deriso Il corpo Di polizia Perché Non Non riescono A A fare niente Con Diciamo La loro Situazione Youtubiana Cioè Con il fatto Che vengano Presi in giro Più o meno Da tutti E E che Perché I poliziotti Sarebbero Più Impegnati A A Far Le multe Perché Se la gente Non tiene Una Mascherina Anche Quando Fuma Una Sigaretta L'ho Trovato Molto Ridicolo E Incoerente Invece Questo Questo Suo Commento Perché Loro Come Gli ha Fatto Anche Notare Un'altra Persona Visto Sotto I commenti E Loro Praticamente Hanno Segnalato Dei ragazzini Cioè Neanche Delle persone Adulte Dei ragazzini Tipo In un Supermercato Non mi Ricordo Quale Forse L'Ocean Vabbè Verso Gennaio Verso Gennaio Se non Mi Sbaglio Solo Perché Questi Ragazzi Non Perché Non Avessero La Mascherina Non Perché Ce l'avessero Abbassata Ma Perché La Tenevano Praticamente Poco Sotto Il Naso E Sono Praticamente Andati A fermare Una Guardia E A Segnalare Questi Ragazzi Inoltre Questa Guardia Aveva Detto Che Non Era Di Inoltenza Poiché Questa Guardia Era La Guardia Di Uno Dei Negozi All'interno Del Centro Commerciale Non Era Una Guardia Che Controllava Il Tutto E Ricordo Che Chiara D'Alessandro Era Rimasta Pure Inlignata Per Questa Cosa E Secondo Me Punto Come Ho Detto Questa Storia Non È Minimamente Vera Anche Perché Gli Aveva Già Mandato Aveva Già Mandato Delle Altre E-mail A Chiara E Chiara Non Accetta Nemmeno Le Critiche Nessuna Critica Se Tu Provi A Scrivere Un Commento Dove Dove Appunto Cerchi Di Criticarla O Punto Minimamente Anche Di Per Cularlo Che Lei Non Approva Il Commento E Viene Bloccato Quindi Come Mai Non Avevo Bloccato Quest'e-mail Questo Account Dato Che Le Aveva Dato Fastidio Altre Volte Le Spiegazioni Sono Sempre Quei Due O È Che Ormai C'è Sempre Meno Gente Che Parla Di Lei Un Po' Perché Vabbè Si Sono Tutti Stufati E Un Po' Anche Perché Stanno Succedendo Delle Cose Molto Più Interessanti Su Youtube Possiamo Dire Per Chi Segue Questi Canali O Per Chi È Diciamo Un Amante Del Dissing O Per Gli haters Fomentatori Ci Sono Ormai Canali Molto Migliori Di Quelli Di Chiara Davide Dove Scrivere Per Esempio Oggi Cioè Stasera Ho assistito Alla Live Di Barbara Sono Ribesso Come Allibito Ho Cercato Pure Di Placare Minimamente La Situazione Anche Farla Ragionare L'unica Cosa Che Mi È Sì Riuscito Ad Ottenere Un Insulto O Insulti E Se Non Mi Sbaglio Mi Ha pure Bannato Ma Vabbè Comunque Le Spiegazioni Sono Due O Appunto È Una Scusa Perché Ormai Nessuno Guarda Più I Sui Video E Quindi Le servivano Dei nuovi Diciamo Materiali Per fare Nuovi Video E Prendere Qualche Visualizzazione In più Oppure Questo Canale Non Questo Account Non Esiste E E E Questa Storia È Completamente Inventata Con Questo Io Concludo Qua Vi saluto E Ci vediamo In un Nuovo Video Ciao I Ci vediamo